Un tempo il colore predominante era il verde, adesso nel giardino Melvin Jones di Palese lo spettacolo è un po' cambiato. Aperto dal 2005 il destino del parco è scivolato via via nel degrado assoluto come mostrano le immagini. Assoluta incuria delle piante ormai sostituite da serpaglie altissime che al di là dell'immagine potrebbero rappresentare un serio pericolo per gli appartamenti a ridosso della zona in caso di incendio. E ancora il ricordo sbiadito di un'altalena di cui è rimasta solo la struttura portante e qualche dondolo malmesso. Nonostante tutto i residenti continuano a frequentare il giardino ma guardare i bambini che giocano tra erbaccia e immondizia non è davvero un bello spettacolo. Sono anni che voi denunciate lo stato di degrado di questo parco che pare terra di nessuno ma nessuno vi ascolta. È brutto dire che sia diventato terra di nessuno. Quando nacque dieci anni fa era una bomboniera ed era un luogo in cui si socializzava. Le famiglie si incontravano portando i loro bambini quindi era un luogo in cui cresceva una idea di un'identità locale. Io credo che urga un intervento immediato di ripristino totale dell'aria sia per renderla fruibile a tutti i bimbi della zona e soprattutto per evitare che possano scoppiare accidentali incendi che possano provocare appunto dei disastri alla popolazione che ci vive qui intorno. Ma l'abbandono del parco Melvin Jones è più profondo di una pulizia non fatta o di una giustrina non curata perché parte dall'alto dall'amministrazione che non si è mai preoccupata neanche di rinnovare la convenzione con la multiservizi i cui dipendenti si limitano ad aprire e chiudere il cancello. Uniche boccate d'ossigeno sporadici passaggi degli operatori Amio che però possono limitarsi alla sola pulizia dei vialetti. Niente multiservizi, niente Amio quindi. In poche parole il parco Melvin Jones è terra di nessuno. Mi sono sentito con l'assessore Petruzzelli con il quale abbiamo concordato un intervento immediato straordinario anche la settimana prossima per ripristinare immediatamente una situazione di accessibilità e di pericolosità perché le sterpaglie che ci sono recano anche una situazione di pericolo per le abitazioni circostanti. situazioni di pericolo per i bimbi e per le abitazioni circostanti. Quindi un intervento immediato e accelerare i tempi della convenzione con la multiservizi.